150.000 euro per contribuire alla costruzione di una parte della nuova scuola materna di Medolla in provincia di Modena. È il progetto che il Consiglio regionale del Piemonte, su proposta del Comitato di Solidarietà, ha approvato all'unanimità per investire i soldi raccolti a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia Romagna. La ricostruzione delle zone colpite dal terremoto necessita dello sforzo straordinario di tutti. In questo senso la gara di solidarietà che si è innescata ha una valenza davvero importante. Abbiamo deciso di ripartire dalla cosa più preziosa che sta attorno alle comunità, non solo le imprese, le abitazioni, ma soprattutto le scuole, per dare ai ragazzi da subito settembre-ottobre la possibilità di ripartire. Il Consiglio regionale del Piemonte ha fatto un lavoro straordinario, 150.000 euro che andranno direttamente alla scuola di Medolla, che già dai prossimi giorni inizierà il lavoro di ricostruzione per consentire ai ragazzi ad ottobre di riprendere in maniera ordinaria il loro anno scolastico.